Luce, armonia, buio e caos, questi temi delle quattro serate organizzate nel mese di luglio al Museo del Bali, nell'ambito della rassegna Il Gusso della Scienza. La manifestazione vedrà come protagonisti grandi ospiti della cultura, della musica e dello spettacolo. L'idea nasce assolutamente da una convinzione che questo museo deve sempre di più aprirsi a quelli che io chiamo e definisco gli utenti generici. Oggi noi abbiamo il core business che è dettato assolutamente dal mondo scolastico e tale dovrà rimanere. Però, ecco, nell'immaginario collettivo dobbiamo far percepire e capire che questo museo può essere intrigante e interessante per un pubblico che non è praticamente scolastico. Le serate che prenderanno il via sabato 4 luglio prevedono anche una cena con prodotti tipici locali e vini abbinati. Il costo dell'intera serata e quindi cena più spettacolo andrà dai 25 ai 30 euro, ma sarà obbligatoria la prenotazione mandando una mail a infocchiocciolamuseodelbali.it oppure telefonando allo 0721 89 23 90. I più piccoli sotto i 3 anni saranno ospiti, mentre per i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni il prezzo sarà di 20 euro. Il secondo figlio non paga 10 euro. Invece la cifra per poter assistere soltanto allo spettacolo che avrà inizio intorno alle ore 22. Il graditissimo ospite che inaugurerà la serata sarà il professor Vittorio Sgarbi, che ci parlerà della luce nei dipinti, quindi dell'impatto emotivo della luce nei dipinti. E poi si seguiranno i prossimi successivi sabati con Armonia, il tema della successiva serata, il buio sul risparmio energetico, con graditissimo ospite invece il giornalista Matteo Viviani, giornalista delle Iene, che ci parlerà di risparmio energetico, quindi toccherà questo tema di impatto sociale, naturalmente con il suo solito brio e destro. E poi alla fine chiuderà la rassegna il tema caos, qui sarà una bellissima sorpresa, quindi lasciamo in sospesa questa serata. In caso di pioggia le serate in programma saranno annullate o rinviate in data da destinarsi.